Ciao, creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa I, I, M, M, A. Questa sera, la grande richiesta, dopo tanto tempo, leggiamo il volantino del Lidl, ma prima apriamo queste quattro confezioni di Stichiz, 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 sempre tema, la casa, tema casa, credo, tutte le immagini. Comunque il volantino è per le offerte valide dal 14.09 al 20.09, andiamo ad aprire gli Stichiz. Ho trovato un water viola, mamma no, che cringe. Credo sia un water, un water viola, molto sobrio e elegante. Che bello, bello questo è trasparente, è un orologio. Che bello, trasparente, non ne avevo mai visti, avevo visti che si illuminavano al buio di Stichiz, ma mai così, sul trasparente. Un bambino, un bambino, un bambino, o una signora, una persona con i capelli arancioni. orologio, un bambino, un bambino, o una signora, un bambino, è un bambino moreno. Un bambino, male come supera. Un bambino mereditura. vogliono trovare, oppure anche la poltrona era bella, però vabbè abbiamo trovato due water viola bruttissimi, questa volta ci è andato proprio male devo dire, comunque questi sono quelli che ho trovato, l'orologio è il più bello di tutti, ma ci vuoi poco, allora il tuo prezzo Lidl, super offerte, ma a noi non ci interessano queste, dico giusto, dico giusto, no perché a parte questo cornetto bigusto crema e amarina che wow, cioè bigusto non li avevo mai visti, che io sappia, poi c'è questa focaccia vegetariana, fa abbastanza voglia, questo volevo il gattino, vabbè bagnetti, e dovrebbe però esserci, ah questo abbiamo trovato, dovrebbe esserci la settimana francese se non sbaglio, ma dopo già che ci siamo guardiamo anche quello di Aldi, sì, stasera voglio straffare, sì, esatto, eccolo qua, raffinate per l'ipatrice in stile francese, da lunedì 14, da lunedì 14,09 settembre, allora c'è questa quiche, torta salata con specche, 1,99 euro, poi torta salata con cipolla e pancetta, 2,39 euro, torta salata con cipolla e pancetta, 2,99 euro, poi palline di patate, 1,49 euro, quiche, torta salata con pancetta, 2,99 euro, crocchette a base di formaggio, caprino, pastorizzato, 2,49 euro, voglia, poi con patate, panna e formaggio, carote, zucchine e broccoli o con capolfiori, 2,99 euro, snack box a base di formaggio, 3,49 euro, 46 pagottini di pasta sfoglia, 46, non uno di più né uno di meno, 3,29 euro, poi questa è la torta, quella di mela, 4,49 euro, gelato al gusto di mandorle e macaron, oh mio dio, ma poi è bellissimo, un colore fantastico, 2,29 euro, torta flambè con formaggio, monster top e pancetta affumicata o con patate, formaggio e pancetta affumicata, 1,99 euro, torta al cioccolato, con cuore morbido di cioccolato, 1,79 euro, che voglia, mamma che voglia, non lo faccio che mi prontola, poi qui abbiamo le madeleine, dolcetti al burro, 1,99 euro, crepe dolci, aromatizzate alla vaniglia, 1,79 euro, cran caramel con salsa al caramello, 1,29 euro, biscotti con ripieno in diversi gusti, 0,99 euro, e c'è fragole e limone, prenderei limone, specialità spalmabile a base di fichi della Provenza, ottima per crostate o con formaggi, wow, 1,79 euro, crema spalmabile alla caramella mou, con burro salato, mamma mia, 2,79 euro, biscotti di pasta frolla con burro, in fantastica confezione di lata, perché bisogna dire anche quello, non lo dice qui, lo aggiungo io, 3,99 euro, formaggi tipici francesi, 2,39 euro, formaggio a pasta molle, 3,79 euro, novità, ci sono tante novità, spalmabile di capra, 1,39 euro, filetto di suino fumicato, 1,79 euro, infatti questi non l'avevamo mai visti, prosciutto essiccato all'aria, 2,39 euro, formaggio fresco di latte caprino, pastorizzato, 1,99 euro, patè di suino con erbe aromatiche, 0,99 euro, questo mi fa voglia, non so perché tra tutte le cose questo lì, fosse anche il formaggio a pasta molle, salame confichi, 2,99 euro, salame di carne suino essiccato all'aria, 1,99 euro, formaggio a pasta molle, 1,79 euro, formaggio francese a pasta semidura, 2,49 euro, formaggio, non lo so leggere, 2,69 euro, il brimpe di brimpe a 3,19 euro, poi qua ci sono dei vini ma non ci interessano, che l'ho deciso io, poi qua mette la pubblicità, diciamo degli stickers, dice, solo da Lidl, dal 7 settembre all'11 ottobre, collezionali tutti, uno dei 24 stickers in omaggio, ogni 15 euro di spesa, la festa di casa, il divertimento assicurato, uno bustino in omaggio, ogni 15 euro di spesa, oppure se li possono comprare un sacchettino che forse contiene gli stickers, cioè nel senso, per metterli tutti dentro, 0,99 euro, e poi c'è la box da collezione, 0,99 euro, che l'ho vista, l'hanno messa in cassa, è tipo di cartoncino, una casa, poi qua dice, meno plastica, ok, hanno smesso di fare casino in teoria, allora, in linea con la nostra strategia reset plastica, entro il 2025 avremo ridotto la plastica nelle confezioni dei prodotti a nostro marchio del 20%, ho reso riciclabile il 100% dei packaging, wow, gusti bene essere qua, che robe sono queste, quelle senza, quelle vegan forse, sì, qui tutto il piacere di un dolce riposo, ci sono delle coperte, copriletti, pigiami, pappucce, qui arredo casa, qui crea il tuo stile in cucina, con tutte queste cose, non so se si vede dalla videocamera, credo di no, hanno un color tiffani bellissimo, peccato che dalla videocamera sembrano bianchi, vabbè, non importa, ci sono anche neri, rosa pastello, c'è una bilancia, c'è un frullatore ad immersione, degli utensili da cucina in silicone e bambù, e un'insalatiera, poi c'è intimo, sia per lui che per lei, poi c'è niente di più facile per la pulizia, e c'è lavapavimenti a vapore, e un aspirapolvere, se non sparo, sì, aspirapolvere ricaricabile due in uno, lavapavimenti con sblozzatore, poi c'è per gli appassionati del cucito, macchina da cucire, con vari, anche la borsa per la macchina da cucire qua, mentre qua ci sono vari accessori, sempre per il cucito, le forbici, le lette di ingrandimento, i set bottoni a pressione con pinza, bello quel, accessori per cucito, filo, il box porto oggetti per cucito, mi mette di nuovo quel gatto bellissimo che non ho trovato, poi c'è vivi la tua musica dove, come e quando vuoi, qua, ci sono le cuffie auricolari bluetooth, e altre cose elettroniche, poi qua ci sono un sacco di lampadine, poi qua c'è esteticamente perfetto, c'è uno specchio con i led per il trucco, un rasoio da donna e uno da uomo, bilancia, pesa persone, cose per la doccia, poi qua abbiamo perfetti per il bagno di casa tua, hanno deciso l'uno, a parte tutto, questi profumatore per ambienti è il profumo di macaron, delle profumazioni di fragola, pistacchio, orange, cioè io non lo metto in bagno questo, pistacchio, cioè sai andare in bagno e sentire il profumo di pistacchio, di macaron al pistacchio, è un po' strano, cioè non mettere più volentieri in cucina o in salotto, se proprio, vabbè, poi ci sono dei profumatori per armodi, bruttissimi, poi c'è pollice verde, ho vinto tutte queste belle piantine qua, adesso che ho il pallino per le piantine, me le comprerei tutte, però non ho spazio purtroppo, se avessi un giardino mio, o se avessi più spazio, una casa mia, tipo per esempio, riempirei tutto, e poi andiamo al super weekend, offerte valide da venerdì 18.09 a domenica 20.09, e c'è la nostra amica in offerta, poi già che ci siamo io andrei a guardare anche il volantino di Aldi, offerte valide sempre dal 14 al 20 settembre 2020, visto che vicino ad ogni Lidl c'è anche un Aldi, cioè guardiamo tutto insieme, no? Di solito, quindi chi ha il Lidl nella propria città o paese ha anche Aldi, andiamo sul sicuro. Allora, a Lidl ci sono le specialità francesi, invece da Aldi, quelle spagnole se non sbaglio, allora, qua ci dice che ci sono le tortiglie wraps a 0.99, andiamo a vedere quelle a tema, le troviamo subito, qua, allora, 3 di formaggi spagnoli a 7.99, qua, ok, stai vedendo, salumi spagnoli a 1.49, prosciutto serrano, stagionatura a 11 mesi, 1.59, specialità spagnole a 2.49, poi, per zuppe dal mondo con fagioli neri e riso integrale a 1.79, spiedini di camberi con erbe aromatiche oppure al peperoncino a 2.99, io da Aldi solitamente compro il pesce perché, c'è, tipo, mettono spesso al 50%, quindi è buonissimo prezzo, è quello nel banco frigo, non sul gelato, riso per paella, 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 non so mai come si pronuncia, 1.49, ventagli di pasta sfoglia, ma sono dolci, non lo specifico, ma presumo che lo siano, 0.79, fagioli alla messicana, quindi saranno piccanti, immagino, 1.99, wow, salsa tip al formaggio per pucciarci dentro le tortiglia chips, buonissime, 2.79, tortiglia wrap, preparati con il metodo tradizionale, pronti, in pochi, semplici passaggi, riscaldo, farcisci, arrotola e gusta, mais, peperoncino, 0.99, tortiglia chips XXL, 1.25, tortiglia chips Pachita Canyon Croc, 0.99, guacamole, naturale oppure piccante, 1.79, birra, da Barcellona, con noti di miele ed erbe mediterranee, a 0.79, birra, non ci interessa, faccio deciso così, va bene, ah ecco niente, è già finito le cose a te, ma sono già finite, però c'è la crema a pan di stelle in offerta, 3.99, onestamente non so nei negozi quanto costi in realtà, quindi non ti so dire se è una buona offerta, il guantino di Aldi sembra più, sembra fatto di carta riciclata rispetto a quello di Lite, non so, ha una texture diversa, sembra più leggero, allora, sembra anche più opaco, non lo so, magari sono uguali, potrei sbagliarmi ovviamente, quella salsa di pomodoro, ciliegino è buonissimo, io l'ho mangiata già, molto buona, si, sta a 0.75, qui hanno messo tutte le nole, la frutta secca, c'è tutta la frutta secca, allora hanno messo, cogli il raccolto migliore, arachidi tostate, noci scusciate, noci del Brasile, noci di bacon, buonissime, noci in guscio, misto di frutta secca, mix di frutta secca, c'è misto e mixa, ok, oh, pistacchi, i miei preferiti, arachidi tostate, misto di frutta scusciata e seccata, mandorle pelate, nocciole pelate, tostate, arachidi, anacardi, scusciare la pecan, non ho detto bene, che buone gli anacardi, però quelle di pecan, allora pistacchi, primo posto, secondo posto, noci di pecan, classificona, e poi ci sono mandorle scusciate, manco in offerta a 0,89, me lo sono da comprare, lo vedrai in un prossimo video spesa, che l'avevo detto, allora, poi frigo e dispensa pieni di convenienza al prezzo alti, cosa c'è qui che può, si può dire, ok, lo voglio, e niente, fammi vedere, fammi vedere, sfogliamolo insieme, un buiglietto da bagno in bambù, 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 altro che Famiglia Adams, qui ci sono cose per bambini, anche una bella giacca impermeabile gialla per fare il cosplay di, sì, lo mandiamo ad Halloween, a fare il cosplay di It, cioè del bambino che adesso non mi viene il nome, no, è la gialla, no, scrive uno nei commenti, poi qui presti passi tutti i giorni, da noi alla cassa solo delle belle sorprese, ok, abbiamo già finito, di fiori qua, sì, me li coprerai comunque tutti perché c'è un pallino del giardinaggio, weekend promo, che qua fanno tipo il super weekend, solo che l'hanno chiamato weekend promo, e c'è la coppa, le costolette, Daniello, no, c'è l'uva però, è una bella cassettina di uva, vivi meglio quando spendi meno, anche la settimana prossima con le offerte, scopri tutti i nostri negozi su aldi.it, basta, abbiamo già finito, pensavo avessero più cose spagnole, spero che questo video ti sia piaciuto, come al solito lasciami un commento, un like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, e attiva la campanella, non lo dico mai, però ogni tanto va detto, e se vuoi condividi anche i miei video, così mi aiuterai a far crescere il canale, se ti va, se non fa niente, intanto sarai già addormentato questo. Grazie per aver visto questo video e per essere stata in mia compagnia, io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura!